Muore travolto dal trattore, accaduto giovedì sera a Capannori, la vittima è un uomo di 66 anni. Il sabato sera del Summer Festival in Piazza Napoleone il primo concerto della Kermess musicale, attesi 5.000 spettatori per i Queens of the Stone Age. In Garfagnana gli autieri d'Italia, Castelnuovo ha ospitato il raduno nazionale con corsi di aggiornamento per i volontari. Moda e solidarietà Villa Bottini, successo per la serata organizzata del Soroptimist per rendere accessibili e disabili il parco giochi di Piazzale Sandonato. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG. Noi qui dunque apriamo con la cronaca, un uomo di 66 anni, Viviano Giusti, è morto giovedì sera a Gragnano, schiacciato dal trattore che stava guidando. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Giusti stava tornando a casa dopo aver lavorato nei campi e stava percorrendo un sentiero nella zona di via della Chiesa. Per cause in corso di accertamento, in un tratto scosceso, il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il trattore a scoprire quanto accaduto. Sono stati i familiari che non lo vedevano tornare a casa. Il 118 ha subito fatto accorrere un'ambulanza, ma purtroppo Giusti è praticamente morto sul colpo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Parliamo del Summer Festival al via sabato sera in Piazza Napoleone. Prende via dunque la ventunesima edizione della Kermesse musicale. Si parte di sabato sera, ma già da inizio settimana Piazza Napoleone e dintorni sono entrati in modalità Summer Festival. Tra poche ore inizia la ventunesima edizione della Kermesse musicale promossa da Mimmo D'Alessandro e a salire sul palco sarà il gruppo americano dei Queens of the Stone Age, alfieri dell'alternative rock, da una decina di giorni in tour europeo. Attesi a Lucca circa 5.000 spettatori. Quest'anno c'è qualche novità nell'allestimento in piazza. Non ci sono più le tribune sul lato della gelateria Pinguino, mentre dalla parte opposta del palco, lato bar Pacini, sono stati allestiti i cosiddetti skybox, le location super lusso sul tipo di quelle allestite per i Rolling Stones. Per il resto in mezzo alla piazza ci saranno tre tipologie di allestimenti, concerti composti sia a sedere che in piedi, composti solo a sedere e composti solo in piedi, quelli in cui si raggiungerà la massima capienza di 11.000 spettatori. Intanto proseguono all'ex campo Balilla i lavori per il concertone sotto le mura di Roger Waters, l'ex leader dei Pink Floyd, in programma l'11 luglio. Qui gli spettatori attesi sono circa 25.000. Il maiale gonfiabile che annuncia e localizza i concerti di Waters però non vola ancora sopra le mura. È pronto da quasi un mese, ci spiega il promoter Mimo D'Alessandro, ma il comune non ci ha ancora concesso l'autorizzazione. È un D'Alessandro un po' scoraggiato quello che si appresta a dare il via al Summer 2018. Troppa burocrazia da tutte le parti, ci spiega, tanto che quest'anno per la prima volta, conclude il promoter musicale, non provo l'adrenalina che sentivo in passato. Cambiamo argomento e parliamo di scavi archeologici alla ex manifattura. I lavori di ristrutturazione alla ex manifattura stanno portando alla luce anche vari reperti archeologici e per un pomeriggio gli scavi nel vasto cortile centrale sono stati aperti al pubblico per le visite guidate dall'archeologa Elisabetta Bella, Serena Cenni e Maela Franceschini. I visitatori hanno potuto così vedere la poderosa struttura muraria tornata alla luce. Potrebbe essere un tratto della Fortezza Augusta, fatta costruire da Castruccio Castracani nel 1300, una parte della quale era già stata ritrovata nella parte nord della manifattura. Tra gli altri ritrovamenti, un tratto dell'antica via degli Stipari, in particolare, è stato riportato alla luce lo spettacolare ammattonato risalente al XIII secolo. Infine, nei livelli più profondi, sono state individuate anche alcune sepolture risalenti probabilmente alla necropoli che si estendeva all'interno delle mura romane. Al di là degli scavi archeologici, i lavori di restauro continuano. Ma per quando è previsto il loro termine? Beh, noi pensiamo che entro la fine dell'anno questo primo lotto possa essere concluso. Ma sarebbe interessante, entro la fine dell'anno, avere l'idea generale di ciò che dovrà essere anche il resto perché, come vedete, la parte restaurata è appena un terzo, forse meno di un terzo delle parti che ancora restano da risistemare. Quindi il nostro obiettivo è quello di capire per tempo e quindi presto come si recupera l'intero ambito perché questa poi è la finalità d'insieme. Questa è una parte di città che va a restituire la frizione di tutti. Ci siamo adoperati sulla prima parte che ospiterà largamente gli uffici del Comune e poi probabilmente anche l'alta formazione. Però rimane tutto il resto che è da definire. Ci spostiamo nella Valle del Serchio sul progetto del gasificatore alla KME parla il sindaco di Varga Bonini che dice di non correre troppo in avanti. Dopo il progetto sul gasificatore annunciato sabato scorso da KME ai dipendenti e la notizia, già da noi anticipata sabato, che la giunta regionale ha approvato una bozza di accordo per il rilancio industriale della fabbrica, il dibattito attorno alla questione del piro gasificatore a fornaci di Varga si fa sempre più acceso. Proprio sull'accordo regione KME non manca di dire la sua anche il primo cittadino di Varga, Marco Bonini. Noi siamo per tenere distinte le due cose, ovviamente siamo favorevoli alla parola degli ammortizzatori sociali in scadenza a settembre prossimo. Per quanto riguarda l'impianto di produzione di energia elettrica, chiediamo ancora una volta che non vengano fatti fughe in avanti, né da parte dell'azienda né da parte della regione, bypassando il comune e i cittadini che il comune rappresenta. Su questo c'è molta attenzione, come è giusto che sia. Noi abbiamo chiesto di analizzare attentamente il progetto, quando questo progetto ci sarà. Siccome dobbiamo dare il parere urbanistico per andare eventualmente avanti, è chiaro che siamo interessati a mantenere l'occupazione della nostra valle, quindi a mantenere l'occupazione di KME, ma mai faremo questo a danno della salute dei cittadini. Per cui su questo argomento chiediamo che ci sia maggior coordinazione da parte di tutti e che nessuno tenti appunto di scavalcare l'ente locale. Intanto, per lunedì, al Mise a Roma, si terrà il previsto incontro tra il Ministero, KME e sindacati. Principale punto all'ordine del giorno, come dice anche Giacomo Saisi della Wilm, proprio il piano di rilancio ed a margine anche la questione ammortizzatori sociali che scadranno a settembre. Tre borse di studio in memoria di Pierluigi Guidi Tre studenti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini si sono aggiudicati a altrettante borse di studio istituite grazie alla generosità di Anna Maria Stefani, che ha voluto dedicarle alla memoria del marito Pierluigi Guidi. Severissima la selezione, con gli aspiranti borsisti che hanno dovuto superare un complesso esame che prevedeva l'esecuzione di programmi di una durata compresa tra i 20 e i 50 minuti, a seconda del livello degli studenti. Nonostante la difficoltà del concorso, si sono presentati 19 studenti provenienti anche dall'estero, iscritti alle classi di chitarra, pianoforte, flauto, viola, clarinetto e canto. A vincere la selezione sono state tre ragazze, la chitarrista Monica Maldonado, la soprano Greta Doveri e la flautista Chiara Foti. La prima di tutti, insomma diciamo un po' idealmente, è che è arrivata alla conclusione e allora ho voluto fare qualcosa di bello, di buono e quindi cercando con questi giovani di incoraggiare i giovani all'impegno, alla bravura e quindi a un futuro migliore. Raduno nazionale degli autieri che si sono ritrovati per tre giorni a Castelnuovo Garfagnana. Durante lo scorso weekend i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia provenienti da tutta la penisola si sono ritrovati per tre giorni a Castelnuovo Garfagnana. Lo scopo principale era quello di fare aggiornamenti e stage con prove pratiche in quanto l'associazione riveste un ruolo importante nello scacchiere del volontariato nazionale. Del resto in questi ultimi anni è giusto dire che grazie alla professionalità e all'impegno il gruppo Garfagnano degli autieri si è messo in grande evidenza soprattutto in virtù degli interventi compiuti nelle zone terremotate del centro Italia. Durante la tre giorni del raduno si sono svolte prove pratiche, teoriche con corsi di aggiornamento per i volontari. Al termine della manifestazione Massimo Turri, instancabile presidente del gruppo Garfagnano ha palesato tutta la propria soddisfazione. Si è trattato di fare un'esecitazione nazionale sui tre moduli più importanti della nostra colonna mobile nazionale. L'idrogeologico, la segreteria da campo e la cucina. Abbiamo avuto la fortuna di avere con noi il direttore generale del Dipartimento Massimo Lapietra, il direttore della logistica Dario Ricci, il maggiore Dennasse che ha seguito il corso della cucina e un ringraziamento particolare all'Unione dei Comuni che ha supportato tutta l'organizzazione dell'esercitazione. L'obiettivo era cercare di formare i più volontari possibili su tutti i moduli per avere un'omogeneità a livelli nazionali. Il quartier generale della manifestazione è stato il centro intercomunale di protezione civile dell'Unione dei Comuni della Garfagnana dove abbiamo allestito un campo di accoglienza per circa 250 sfollati. Sfilata di moda ma anche solidarietà a Villa Bottini. Una serata all'insegna della solidarietà, quella organizzata dal Soroptimist International di Lucca, in occasione della fine dell'anno sociale nella stupenda cornice di Villa Bottini. Obiettivo sostenere un progetto del Comune, a fianco dell'Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, per reperire fondi necessari alla riqualificazione del parco giochi di Piazzale San Donato, dove tutti i bambini, disabili e non, potranno giocare insieme. Durante la serata è stata organizzata una sfilata di prestigiosi abiti ed accessori dell'Atelier Piero Ricci e del brand Villa 31 della giovane e promettente stilista lucchese Emilia Poli, che ha presentato le sue creazioni, borse ed accessori che già a livello nazionale hanno trovato il consenso del grande pubblico. Da sempre, infatti, il club sostiene i giovani donne nella loro avventura imprenditoriale. Si è chiuso così l'anno sociale del Soroptimist di Lucca. A settembre in programma un altro importante evento, con il quale si chiuderà la presidenza di Renza Petroni, dopo due anni di attività dedicati alle iniziative per la città di Lucca. Appuntamento importante sabato con l'intitolazione della Valle della Musica in considerazione delle origini e dei legami di Giacomo Puccini e Alfredo Catalani con la Val di Roggio. Alle 17.30 a Cologno, ora di Pescaglia, si terrà il concerto lirico, appunto, la Valle della Musica. Si esibiranno artisti di primo piano, Marco Mustaro, tenore, Laura Masini, mezzo soprano, Francesca Maionchi, soprano, Graziano Polidori, basso, Stefano Adabbo, al piano. La direzione artistica è affidata al maestro Graziano Polidori. Ricordiamo anche un appuntamento dell'Associazione Onlus, il sorriso di Stefano, per sabato ai laghetti di Lammari e presso il campo sportivo di Lammari, con inizio alle 16. L'evento, insieme per un sorriso, con la partecipazione della Fasma, Allegra Brigata, Comunità La Rondine, il centro di urno San Marco e la Bricola. Una giornata di giochi, in allegria e divertimento, con cena e balli sotto le stelle e il lancio delle classiche lanterne. Ed ora la rubrica settimanale, l'ancora di Sergio Talenti. Il 19 giugno del 1996, oltre un milione di metri cubi di materiali, fra pietrame, fango, alberi, trascinato a valle da una paurosa valanga d'acqua, si abbatte sul paese di Cardoso, facendone sparire una buona parte. Erano le 13.50 ed era buio. A Vioreggio invece c'era il sole, e proprio da Vioreggio si poteva vedere quella nuvola nera, notturna, quasi incombere, su un territorio che sarebbe cambiato per sempre. 13 morti, un disperso e un dolore che non si fa raccontare. Ma anche la determinazione di una risposta al dramma. Così la regione toscana nomina subito, imbedatamente, un commissario unico straordinario addetto alla ricostruzione, che in 5 anni è compiuta. E in 5 anni l'intera area viene restituita alle sue popolazioni. La lezione che viene da Cardoso è duplice. Anzitutto dice che l'onestà, non quella gridata, ma quella realizzata in silenzio, è la vera forza di una comunità. Poi dice anche che l'indipendenza delle istituzioni locali è decisiva alla soluzione dei problemi e anche al contrasto di pratiche corruttive, sempre in agguato in questo infelice paese. Bene, è davvero tutto anche per quanto riguarda questa edizione del TG Noi. Io vi ringrazio per averci seguito fin qui e vi auguro un buon proseguimento in compagnia dei programmi di Noi TV. Grazie a tutti!